Il 5 giugno è una partita assai importante per la qualificazione, vediamo appunto questi tre gol, dicevo, con i quali i norvegesi hanno battuto Ciprioti, il primo gol è su calcio di rigore, lo segna Lindersen, il raddoppio in mischia è di Dalun, la terza rete viene messa a segno da Sol.